Va che sono bello trasandato, si vede che sono in ferie. Benvenuti e bentornati cari amici e fenauti. Ve lo dico subito, voi mi siete mancati, però quello di luglio è stato un mese pieno e difficile, però sono tornato per farvi di nuovo compagnia in queste tiepide giornate d'estate. Ma vi avverto anche perché questo video potrebbe causarvi una voglia matta e improvvisa di farvi un tatuaggio geometrico oppure di iniziare a fare sessioni di yoga all'alba o iniziare addirittura a chiacchierare di argomenti filosofici con gli sconosciuti. Preparate perciò la mente e il cuore perché stiamo per esplorare il lato più profondo, quello più affascinante della street photography. Sì, cari amici, mettetevi comodi perché oggi affrontiamo insieme un tema che divide, un argomento scottante che scatena nelle discussioni accese un vero e proprio derby tra le tifoserie che si odiano, eccetera, chi ha fede e chi invece non ne ha. Parliamo oggi della legge di risonanza o di attrazione della street photography, la profezia che si autoavvera. E io so anche che finisco sempre per indischiarmi in questi argomenti un po' scottanti e spinosi perché già mi immagino i commenti infuocati che ne verranno. Ma a qualcuno questo lavoro odora pur farlo, giusto? E quindi mi raccomando commentate. E adesso rilassatevi magari con un bel mojito e percorriamo insieme questo viaggio nella legge di risonanza. A qualcuno di voi che ha già partecipato alle nostre photo walk in giro per l'Italia l'ho già raccontato e cioè che sono anni che io penso al significato vero di questa legge di risonanza ma alla fine ho trovato una risposta e voglio proprio condividerla con voi. Oggi io considero la legge di risonanza come un consiglio fidato che disciplina molti aspetti della mia vita ma anche del mio lavoro. Quindi condiziona le mie amicizie, le mie relazioni, le giornate lavorative ma anche tutta quanta la mia opera di scrittore, di musicista e di fotografo. Tutti quanti noi incontriamo varie forme di attrazione verso persone, verso libri, influenze, situazioni della vita e perfino verso oggetti che ci circondano. C'è l'attrazione della lussuria che sicuramente è quella più primordiale ma c'è anche l'attrazione del mi piace e del non mi piace che regola le nostre amicizie e tutte quante le simpatie. Ma l'attrazione più importante è quella della risonanza e cioè quando cerchiamo persone, cose, influenze e argomenti che risuonano con il nostro essere più profondo. E questo tipo di connessione crea un legame potente che nutre tutta quanta la nostra essenza e ci aiuta a modellare anche la nostra vita. Questi legami ci formano durante la crescita e rivelano il nostro vero io e stimolano profondamente la nostra creatività. Come fotografi noi vediamo quello che siamo. Guardiamo oltre il semplice mi piace e non mi piace per trovare delle scene, delle immagini che corrispondono profondamente alle nostre passioni ma anche ai nostri impegni. Io sono sempre il primo a scherzare e lo sapete tutti ormai io sono un gran burlone però la street photography per me è una cosa seria. Non è soltanto una raccolta di figurine da esporre alla berlina come fanno in molti. Perché io dietro ogni fotografia, dietro ogni figurina, io ci vedo una persona e ci vedo la sua storia. Perciò ogni scatto che facciamo è un dialogo con il mondo e non si tratta soltanto di catturare un'immagine ma di connettersi profondamente con il soggetto che decidiamo di fotografare. E quindi è necessario essere presenti, ascoltare con gli occhi ma anche con il cuore e aspettare proprio quel momento di risonanza quando la nostra anima e quello del soggetto che stiamo fotografando si allineano. La legge di attrazione è l'idea che possiamo attrarre a noi tutto quello che desideriamo. Quindi i soldi, la vita dei sogni, l'anima gemella, la felicità e addirittura il successo. E questo è un concetto molto antico che è radicato nella filosofia ermetica e che è stato attribuito mica a un guido la vespa qualsiasi. Ma niente poco di meno che a ermete trismegisto, cioè quel maestro che ci ha insegnato che tutto quanto si muove, che tutto vibra, niente inquiete. Ogni cosa sulla terra possiede una propria frequenza, dalle corde di una chitarra oppure di un violino, ai sassi, agli impianti industriali, dal letto che ci tiene prigionieri la mattina quando sono alla sveglia, fino ovviamente al mio cane che russa. Albert Einstein ha detto che tutto quanto è energia e questo è tutto quello che esiste. Perciò sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno che ottenere quella realtà e non c'è nessun'altra via. E questa, badate bene, che non è filosofia, questa è fisica. E infatti oggi la scienza ci dice che nell'universo è tutto quanto energia che vibra a una frequenza determinata, inclusi anche i nostri pensieri. Come per esempio ascoltare la musica a 432 Hz è stato dimostrato scientificamente che può abbassare il battito cardiaco, aiutando anche a liberare tutti quanti i blocchi emotivi. E questo dimostra che le frequenze giocano un ruolo importante nel nostro benessere e non soltanto nel benessere mentale ma anche in quello fisico. Secondo la fisica quantistica infatti l'universo è un mondo di infinite possibilità e i nostri pensieri possono influenzare quale di queste possibilità si manifesta veramente nella nostra realtà. E infatti proprio la fisica quantistica ci insegna che nel microcosmo l'osservatore ha il potere di influenzare il sistema osservato giocando un ruolo attivo nella creazione della realtà. Questo ovviamente non vuol dire che se io ti guardo tu diventi Cartier-Bresson, però la coscienza ha la capacità di creare e di modificare quello che osserva. Perché non esiste una realtà che è oggettiva, perché tutto quanto dipende da chi guarda. E questa è una legge che è antica come il mondo, però in occidente non se ne parla molto e non si fa per non ostacolare il business delle masterclass in tutti i campi, compresa ovviamente la street photography. Molti però criticano questa legge di attrazione perché nonostante i vari tentativi non si ottengono i risultati sperati. E questo fenomeno, che scientificamente viene chiamato sfiga, può essere spiegato dalla programmazione del nostro inconscio. Mi spiego meglio. Attraverso le nostre convinzioni noi creiamo la nostra realtà e quindi se siamo convinti di un certo esito iniziamo anche a comportarci inconsapevolmente per far sì che questo esito ci avveri. È un po' il famoso te l'avevo detto che ci diceva nostra mamma quando eravamo piccoli. I pensieri limitanti conducono sempre a risultati limitati perché noi attiriamo ciò che siamo oppure ciò che pensiamo di essere. Perciò se usciamo a fare fotografie convinti di essere dei fuori classe non è detto che produrremo delle fotografie sensazionali. Questo è ovvio. Però se usciamo a fare fotografie convinti di essere dei fotografi mediocri scatteremo solo foto mediocre. La frase giusta perciò è che oggi sei dove i tuoi pensieri ti hanno portato ma domani sarai dove ti porteranno i tuoi pensieri. Ecco il nostro credo diventa così realtà perché noi subiamo la realtà che creiamo. Vediamo ciò che creiamo. Quello che pensiamo è tutto quanto una questione di cambiare il nostro mindset perché sta tutto quanto qua. E quindi la prossima volta che devi approcciare una fotografia pensa a quello che vorresti ottenere e poi credici con tutto quanto te stesso e le azioni seguiranno di conseguenza. Prova ad agire come se già tu avessi scattato una fotografia fantastica. Non accadrà nulla di male se decidi di crederci. Potrai ovviamente fallire lo stesso lo scatto ma non lo fallirai perché non hai avuto fiducia in te stesso. Devi perciò usare pratiche di visualizzazione ma attenzione al nostro cervello non piacciono le negazioni e soltanto perché non le sa leggere perché infatti se io ti dicessi di non pensare all'elefante rosa tu ci penseresti inevitabilmente e quindi ricordati di non pensare mai che fallirai uno scatto oppure lo fallirai. Quindi pensa a quello che vorresti ottenere non a quello che non vorresti che accadesse perché sono due cose completamente diverse e non sperare non tenere soltanto le vite incrociate devi crederci crederci e basta. La fortuna aiuta gli audaci mentre invece il pigro si ostacola da solo e lo diceva Seneca e crederci è già da Brevard. È curioso ma il nostro cervello può essere influenzato tanto da fatti concreti quanto dall'immaginazione. Non distingue in realtà quello che è reale da quello che non lo è. Possiamo perciò scegliere di credere nel destino e quindi vedere per esempio un filo conduttore in tutti quanti gli avvenimenti più significativi della nostra vita credendo che tutto quanto abbia uno scopo preciso che sia stato già disegnato oppure possiamo sentirci parte attiva dalla nostra esistenza scrivendo noi stessi la nostra storia di uomini la nostra storia di street photographer. Nella street photography questo concetto dell'attrazione della risonanza si applica in un modo molto potente. Ogni scatto infatti non è soltanto un'immagine ma è un'espressione delle nostre vibrazioni interiori. Le fotografie che catturiamo riflettono chi siamo. Quando camminiamo per le strade con la macchina fotografica in mano cerchiamo quelle scene che risuonano profondamente con il nostro essere. Non basta soltanto immaginare fotografie straordinarie dobbiamo fotografare dobbiamo fare. La legge di attrazione ci insegna che porsi nelle vibrazioni più positive e costruttive è fondamentale per vivere meglio perciò dobbiamo muoverci fare cose creare attivamente la realtà che vorremmo che desideriamo. E poi dopo questo video che tu ci creda o meno alla legge dell'attrazione porsi però in una posizione di apertura e di fiducia è essenziale per godersi questa avventura che chiamiamo vita e per godersi anche questa passione che chiamiamo street photography. La street photography non è soltanto un'arte è un modo di vedere perciò sintonizzati con il mondo cerca le vibrazioni che risuonano con il tuo io più profondo e lascia che le tue immagini raccontino storie autentiche storie potenti. Cammina per le strade sempre con il cuore aperto pronto a trovare e immortalare tutti quanti quei frammenti di vita che risuonano con te con il tuo essere. Non c'è fretta perché la street photography è un'arte che richiede pazienza passione e anche una profonda connessione con tutto quello che ci circonda. Ogni scatto che facciamo è un'opportunità di crescita, di scoperta e di risonanza con il mondo. Ciao e alla prossima settimana. Ciao e alla prossima settimana.